Buongiorno ragazzi il mio marraffe oggi siamo qui su cecchini contro ladri grazie a non mi ricordo chi me l'ha consigliato un mio iscritto comunque ma direi di cominciare Questo gioco può causare problemi alla vista se siete già miopi o portate gli occhiali vi consiglio di non guardare questo video o di giocare al gioco per maggiori informazioni leggere il foglio illustrativo Wow quanto è figo ah ok dovrei ammazzare questi questi queste quattro persone non mi fai nessun tutorial non lo so Oh no la banca ok noi siamo lì E che cosa è questa roba ma perché ma che cazzo ma non vedo niente si non so se è buggato e ho proprio così il gioco Oh cacchio Oh ma che cacchio non vedo niente guardate cioè già dall'inizio boh nemmeno il tutorial l'ho fatto Bene così boh io provo a sparare ma ecco ma rega dai ma dai nemmeno il tutorial funziona Ma che cacchio di gioco è Ma cosa devo fare ma ma Non posso nemmeno uscire uno schifo Ma io non ho capito dovevo fare così però ma non ho fatto niente cosa mi dà i soldi a fare Eeeh Ciao anche a te riposati pure eh Oh mio dio ma che è ma perché i soldi rimangono lì mentre lui boh scompa Ah vabbè io direi di riavviare il gioco si meglio riavviare Eccomi speriamo funzioni stavolta ti prego Voglio giocare come ladro ora vediamo cosa dovrei fare Un barile così a casa ma perché il gioco in inglese No ma dai ma che schifo ma guarda chiesa che bella chiesa Oh mio dio Tu che me l'hai consigliato hai scritto dimmi se deve far così Oh è normale sta cosa o no boh Ma che ridi Tra l'altro io non capisco niente in inglese Oh mio dio Ma stai rapinando una banca e che cosa ridi Boh non posso nemmeno muovermi ora Questo gioco fa schifo E non perché è brutta la grafica o qualcosa Non l'ho manco provato Non funziona proprio Adesso proprio non posso fare proprio niente Cioè boh non mi fai nemmeno cliccare Boh raga io provo a riavviare ma ne dubito che qualcosa funzioni No Non funziona un cazzo Niente di niente Raga io provo a disinstallare il gioco Però credo proprio che sia così fatto il gioco Magari se ci giocate anche voi ditemelo perché Boh Ah ditemi anche come cambiare lingua Già che ci siete E lui continua a ridere Va bene ridi pure Ok stavolta sembra funzionare ma non so Non so perché prima ha fatto così Ah questi bug Ah questi bug Oh funziona wow Cioè almeno spero Non è vero un cazzo Ma perché Io che volevo fare un video tranquillo su questo gioco Che mi avete consigliato Che mi avete consigliato e alla fine Ma cosa Ma cosa Ma cosa Buona Ma che ti ridi Coglione Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Siceramente non so nemmeno se lo caricherò questo video Perché non ho fatto niente Niente proprio Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate E iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video Bye ragazzi